Musica Nuovamente buongiorno dalla redazione di Udinews TV alla vigilia dell'avvio delle celebrazioni per il triduo pasquale l'arcivescovo di Udine Monsignor Andrea Bruno Mazzocato ha incontrato la stampa per i consueti auguri pasquali anche per una riflessione sulle principali notizie di cronaca sulle principali notizie di attualità degli ultimi giorni allora andiamo a sentire il servizio realizzato da Monica Nardini in maniera direi più forte e esplicita ho lanciato un messaggio di speranza perché è il messaggio della Pasqua la Pasqua è appunto si sono scantrate morte e vita in duello la morte diciamo è stata sconfitta dalla vita quindi è la speranza ma anche perché oggi mi pare che un respiro di speranza sia particolarmente necessario perché altrimenti un po' alla volta ci afflosciamo c'è il rischio di afflosciarsi un po' in una specie di rassegnazione di fondo l'augurio che faccio è proprio questo si dice buona Pasqua vorrei dire Santa Pasqua Santa Pasqua proprio nel senso che ho detto una Pasqua in cui ognuno sente un respiro fresco vorrei dire primaverile di speranza che gli nasce dal cuore se questo avviene allora la Pasqua non è solo buona ma è anche santa quindi buona e santa Pasqua signore si sta parlando con interrogo di Notre Dame cattedrale che è diventato suo malgrado un simbolo di speranza e di resurrezione beh primo è purtroppo anche un segno di grande sofferenza perché quelle immagini che immediatamente in diretta hanno fatto il giro del mondo va bene insomma ci hanno toccato il cuore tutti però quello che è stato interessante per esempio un'immagine che ho visto è che molte persone si sono messi in ginocchio e hanno cominciato a pregare questo perché perché toccare Notre Dame è toccare le radici dell'Europa e le radici dell'Europa sono radici cristiane che sia purtroppo diciamo successo in Francia dove c'è anche come in altre parti dell'Europa l'idea di una laicità che cancella le radici cristiane bene la gente si è messa in ginocchio perché si è sentita toccare al proprio cuore e alla propria storia io spero che quel rogo che è tragico sia però anche il segno di un'Europa che ritrova il proprio cuore e le proprie radici e la paura dopo l'incendio alla cattedrale Notre Dame a Parigi sta contagiando anche altri paesi andiamo a vedere il servizio curato dall'ANSA che ci fornisce un po' tutti gli aggiornamenti su questa e anche altre notizie i bagliori sinistri delle rogo di Parigi si riflettono nelle paure di Londra ma l'andato è in attesa ad un radicale restauro destinato probabilmente a non iniziare prima di una mezza dozzina d'anni il palazzo di Westminster monumento d'origine medievale simbolo della capitale britannica quasi quanto Notre Dame lo è di quella francese potrebbe fare la fine della cattedrale di Il de la Cité a lanciare l'allarme il laburista Jeremy Corbyn e molti deputati del Regno Unito di opposizione come di maggioranza non esitano a dichiararsi d'accordo con lui l'ultima allerta sul degrado della storica costruzione che ospita il Parlamento britannico in Rival Tamigi è risuonato giusto due settimane fa quando un guasto alle tubature ha provocato un mezzo allagamento della Camera dei Comuni ma secondo Corbyn il palazzo ricostruito nell'ottocento proprio dopo un rogo ed allora ritoccato solo marginalmente rischia di peggio a causa dell'incuria il numero uno del labor nota come i mega lavori di ristrutturazione approvati nel 2018 non scatteranno che a metà degli anni 2020 e mette in guardia dalla minaccia di un disastro potenzialmente enorme quasi 300 i manifestanti arrestati a Londra durante le proteste degli ambientalisti radicali contro il cambiamento climatico ieri l'appello della giovane Greta al Parlamento europeo la nostra casa sta crollando e il tempo stringe vi prego di non fallire a Tel Aviv è stato creato per la prima volta al mondo un mini cuore grande come una ciliegia con atri ventricoli e vasi sanguigni non è ancora pronto per essere impiegato nei trapianti perché le sue cellule non riescono ancora a battere all'unisono come accade nell'organo vero e dopo questa scoperta ritorniamo alla cronaca locale a un'operazione della polizia di Gorizia della squadra mobile della polizia di Gorizia che ha individuato tre persone residenti fuori regione accusate di una serie di furti in abitazioni e di una rapina nel territorio isontino ma anche in altre province d'italia per introdursi nelle case spesso occupate da persone anziane i tre usavano vari pretesti e anche travestimenti approssimativi da persone appartenenti alle forze dell'ordine francesca santoro ha sentito il vice questore di Gorizia l'intervista un'operazione complessa il primo episodio a febbraio dello scorso anno si tratta di una rapina in casa e dove a un'anziana sono stati sottratti gioielli denaro contante ma soprattutto è stata sradicata dal muro una cassaforte pure asportata l'adriano poi colpito a tavagnacco da viano e a pordenone esatto hanno colpito in circostanze diverse di tempo cioè poi sono ritornati a colpire il 3 di maggio a feletto umberto con la tecnica appunto di avvicinare l'anziana di rientro della spesa matutina e con un pretesto si sono introdotti in casa poi utilizzando anche degli elementi di divisa e così utilizzando un racconto abbastanza fantasioso si sono fatti mostrare i nascondigli dove la donna teneva i gioielli e il denaro contante e poi li hanno sottratti e con la stessa tecnica hanno colpito a pordenone e a daviano a luglio il 23 di luglio sottraendo ingenti valori ma nella circostanza poi li abbiamo perquisiti insieme alla squadra mobile di venezia a bibione dove si avevano preso diciamo sede con il loro camper i ladri si muovevano appunto con due auto e con i camper con al seguito quindi la famiglia avete anche dovuto inseguirli anche raggiungendo velocità elevatissime sì questo particolare molto interessante utilizzavano delle vetture piccole all'apparenza delle utilitarie nel primo caso un audi a1 s1 che però è potentissima come i cavalli e sviluppano velocità notevole in autostrada è arrivata fino a 240 chilometri all'ora però anche attraversare i centri abitati a 140 all'ora è sicuramente pericoloso ci sono stati degli inseguimenti che hanno diciamo messo anche un po a repentaglio gli operatori perché naturalmente la guida era particolarmente spericolata in queste immagini abbiamo visto anche alcuni degli attrezzi utilizzati dalla banda proprio per effettuare questi furti e queste rapine andiamo avanti con la cronaca perché nella settimana che si è appena conclusa la scorsa settimana la polizia stradale effettuato una serie di controlli proprio per prevenire e reprimere dei fenomeni criminosi tanti veicoli e le persone controllate sono state elevate tante contravvenzioni 781 i punti decurtati dalle patenti di guida quattro sono anche state ritirate la polstrada ha posto in particolare l'attenzione sull'uso del telefono cellulare alla guida la prima causa di sinistri e la distrazione alla guida sinonimo di conducenti che non staccano gli occhi dallo schermo del cellulare nell'elenco delle principali cause di incidente stradale lo smartphone ha surclassato le tradizionali voci dell'eccessiva velocità e della guida senza cintura dieci le persone che sono state pizzicate alla guida mentre stavano usando il telefonino dall'inizio dell'anno sono state 215 le violazioni contestate proprio per l'uso di cellulare mentre si è al volante nella settimana in corso invece è prevista un'intensificazione dei controlli sul trasporto di animali vivi proprio in vista anche della pausa in particolare verranno svolti dei controlli congiunti con personale degli uffici veterinari per l'adempimento degli obblighi comunitari in relazione appunto ai maggiori flussi in vista delle vacanze pasquali sono stati programmati anche dei controlli mirati sul trasporto di persone continuiamo con la cronaca sono riprese all'alba di oggi le ricerche dell'84enne di trieste disperso dal pomeriggio di ieri in val rosandra l'uomo non è rientrato da una delle sue consuete passeggiate nella valle che ben conosce la sua vespa è stata trovata parcheggiata a san lorenzo sono stati controllati da vigili del fuoco soccorso alpino protezione civile carabinieri e polizia tutti i sentieri percorribili fino ai piedi delle falesie di roccia presenti in zona ancora senza alcun risultato i tecnici del soccorso speleologico hanno sondato anche quattro cavità naturali della valle anche due elicotteri della protezione civile e dei vigili del fuoco sono stati utilizzati per le ricerche apriamo la pagina politica adesso oggi si chiudono le candidature per le europee ieri sera nel corso degli speciali del tg abbiamo parlato del voto per bruxelles e tra i temi che hanno acceso il dibattito tra gli ospiti in studio quello sulle politiche migratorie sentiamo un estratto bisogna non porsi i problemi perché qui non si tratta di vincere delle elezioni si tratta di guardare al 2030 si tratta di guardare al 2050 se noi non raggiungiamo la neutralità carbonica non ti andare a dimostrare tutti insieme a greta thunberg per il problema dell'ambiente ma se qui noi non realizziamo concretamente degli obiettivi non ce n'è per nessuno non ci saranno gli stanni non ci sarà l'acqua allora bisogna adesso costruire un'europa che sia forte che anche attraverso la sua i suoi valori anche attraverso la sua capacità innovativa e appunto l'erasmus che prima è stato citato e deve essere nei due sensi non solo i nostri che vanno fuori e poi tornano ma anche gli altri che vengono da noi guardate che è quasi più importante avere altri cittadini europei che vengono da noi e poi ovviamente se ne tornano avere questa mobilità europea di quella che può essere appunto l'andata e ritorno bisogna ricostruire d'altra parte la generazione erasmus è una generazione che sente un'europa senza confini ed è quello che bisogna fare quindi guardi sull'immigrazione so che è uno dei grandi stato uno dei grandi cavalli di battaglia ma mi lasci dire non noi numeri non sono così diciamo drammatici come uno pensa se non per i morti che ci sono stati nel mediterraneo noi abbiamo bisogno di una politica diciamo ovviamente razionale abbiamo bisogno di lavoratori come ben sappiamo se andiamo a vedere anche nel nostro friuli dove sono quali sono gli immigrati e cerchiamo di farlo per lei che sono sindaco di Udine è normale trovarsi sul pagino del messaggero un'intera pagina di facce di stranieri che gestivano il traffico di droga in Borgo Stazione ma scusi ma se l'intero traffico di droga in Borgo Stazione è gestito da 20-30 persone di nazionalità straniera un problema ce lo puniamo o è tutto a vostro? ma certamente ma guardi se lei va a parlare di questore di Udine non potete dire che il problema di migrazione non esiste perché è un fatto che c'è la gente lo pensa giorno per giorno ma questo si è fatto ben poco purtroppo c'è da fare una riforma del regolamento di Dublino che devo dire però con il lavoro che stiamo facendo al governo sta facendo passi in avanti in qualche modo perché quello che mancava al sistema Italia era la fermezza oggi il flusso migratorio il fenomeno della migrazione va gestito non si può chiudersi su se stessi o a finta che non esista però va gestito in modo comunitario vanno condivise le responsabilità e le azioni cosa che fino all'altro ieri non non veniva fatta da questa Europa tutto veniva scaricato sul sistema Italia e gestito decisamente male sono noti gli scandali di chi ha approfittato di questo fenomeno per arricchirsi scaricando poi sui cittadini tutte le conseguenze negative Come stanno le famiglie del Friuli Venezia Giulia? A rivelarlo è il barometro sociale della CISL un'indagine su lavoro istruzione e coesione sociale che fotografa appunto lo stato di salute delle famiglie della nostra regione. La debolissima ripresa dell'economia non è bastata a portare miglioramenti significativi nel benessere delle famiglie andando pesantemente ad incidere sulla tenuta complessiva del tessuto sociale sempre più fragile e caratterizzato da un preoccupante ampliamento delle maglie della povertà. Questo quanto emerge da questa indagine continua sottolinea il segretario generale della CISL del Friuli Venezia Giulia Alberto Monticuo continua a mancare la trasmissione dell'economia reale al benessere delle famiglie attraverso il mercato del lavoro. Evidentemente solo un incremento occupazionale consistente concentrato sulla qualità e sulla stabilità del lavoro potrà garantire un'inversione di tendenza duratura sottolinea Monticco. Pur in presenza di un lieve miglioramento delle condizioni rispetto al 2014 ci troviamo ancora largamente al di sotto dei livelli pre crisi. Il lavoro e la coesione sociale segnano il passo mentre l'istruzione soprattutto per quanto riguarda gli elementi della partecipazione al sistema formativo registra un segno positivo a partire dalla crescita della quota di laureati e della partecipazione alla formazione continua. Carenza di lavoro, altissimo livello di precarizzazione, sottoutilizzo del capitale umano si riflettono inesorabilmente anche sulla tenuta e sulla coesione sociale estendendo le sacche di povertà e di disagio a nuove fasce della popolazione. Questo quanto emerge dal barometro sociale della CISL. Adesso torniamo a Gorizia, andiamo dalla nostra Francesca Santoro che si è spostata dalla questura al comune, la vedo in compagnia del sindaco Rodolfo Ziberna. Allora Francesca subito a voi la linea. Esatto Angela, buongiorno, siamo col sindaco Ziberna. Buone notizie per Gorizia perché il Ministero della Giustizia ha previsto uno stanziamento importante di 4 milioni e mezzo per la realizzazione della cosiddetta cittadella della giustizia. Di cosa si tratta? Sì, è una cosa che attendevamo da un po' di tempo e anche con apprezzione perché proprio un anno e mezzo fa quando mi sono recato a Roma ho incontrato il Ministro, nonché responsabile delle case secondariali in tutta Italia, all'epoca ai noi avevano cassato questa nostra proposta sostenendo e dimostrandomi che avevano un capitolo con una copertura di 10 milioni di euro per tutta l'Italia. La grande novità invece è grazie al dottor Sbriglia che è un partigiano del Friuli Venezia Giulia che ha vissuto le case secondariali del Friuli Venezia Giulia da un sacco di tempo, lui segue il provitorato delle carceri, delle case secondariali dentro di Venezia, ha seguito quasi quotidianamente e grazie a Cero ci è giunta alcuni giorni fa la notizia appunto da parte del Ministero che il Ministero ha stanziato questi 4 milioni e mezzo che serviranno per riqualificare completamente quell'edificio che risale agli ultimi anni dell'ottocento o ai primissimi anni del novecento, perciò 120 anni, in condizioni disastrate. Per capirci ormai sarà da decine d'anni che ovviamente non è utilizzato più per fini didattici e si trova letteralmente a pochi metri, ma non un modo di dire, a pochi metri dalla casa secondariale, dal carcere. I goriziani lo sanno, i non goriziani non lo sanno, noi abbiamo il tribunale attaccato, letteralmente attaccato il carcere e perciò subito dopo questa scuola. Abbiamo una grande esigenza perché oggettivamente mancano spazi, mancano spazi sia per i detenuti, in questo momento sarà una quarantina, però ci sarà la possibilità di raddoppiare lo spazio per loro e manca spazio anche per le attività che devono svolgere i detenuti, dai rapporti con i familiari, spazi proprio da condividere con i familiari quando vengono a trovarli ad esempio, ma non ci sono nemmeno spazi per i dipendenti, perciò la polizia penitenziaria, sono costretti a vivere davvero in condizioni dal punto di vista professionale appunto invivibili, che scusa per il gioco di parole. Avere perciò tutto questo palazzo significherà poter trasferire completamente tutta la parte amministrativa, perciò non legata esclusivamente alla detenzione, tutta la parte amministrativa nella nuova scuola e potremo trovare grandi spazi proprio per l'attività anche destinata al tempo libero, tempo libero si fa per dire naturalmente, destinata anche alla formazione in questo caso dei detenuti. A noi piacerebbe riuscire perciò a fare in modo che la casa circondariale di Gingorizia possa essere annoverata tra i cosiddetti carceri modello che ci sono in Italia. E' importante per una ragione in più, perché per parecchio tempo il tribunale di Gingorizia era letteralmente subiudice, subiudice non perché c'era un giudice, ma perché si proponeva la soppressione e il trasferimento in altre località. In realtà abbiamo visto che il tribunale di Gingorizia costituisce un'eccellenza per molti aspetti della sua attività giudiziaria e amministrativa. Questo intervento da parte del governo, del ministero, rafforza perciò a questo punto la presenza anche, o non soltanto del carcere, ma rafforza la presenza anche del tribunale, perché diciamola, fino in fondo c'era anche il rischio, non ho mai comunicato, il rischio della chiusura della casa circondariale di Gingorizia, perché un orientamento da parte del governo nazionale era quello di concentrare non più in strutture piccole, qual era la nostra, ma in strutture molto più grandi che capisco dove si possono ottimizzare le spese in termini soprattutto di sicurezza, di controllo eccetera. Il fatto perciò che giungono queste risorse va da sé, significa che il governo vuole investire nella nostra città, perciò possiamo tirare il fiato, ma anche tutte quelle famiglie che oggi gravitano intorno, mi riferisco, perciò le famiglie degli agenti di pulizia penitenziaria. Un progetto tra l'altro che non è nuovo, lavorate da anni, già l'amministrazione precedente, aveva posto le basi. Certo, già l'amico Romoli l'aveva proposto, ecco un altro aspetto, la cessione da parte nostra sarà a titolo gratuito, in virtù di quella collaborazione che deve esserci tra ogni livello di governo, perciò dal comune fino al governo nazionale, fino allo Stato, e adesso stiamo cercando dal punto di vista squisitamente amministrativo di impostare la delibera, perché è un beneficio per i goriziani, perché i goriziani non hanno bisogno di queste difficili, non hanno i soldi per ristrutturarlo, vi dico anche di più, noi ogni anno dobbiamo destinare delle risorse nostre municipali almeno 100 mila euro all'anno per mantenere in sicurezza questa struttura, perché diversamente, anzi non diversamente, sarà destinata a crollare. Perciò il comune mette in circolo, ma non ha un privato, allo Stato, perciò ha un interesse pubblico, ripeto, e non privato, una struttura che oggi rappresenta un costo di, ma non solo, un costo. Il fatto che sia condannata questa struttura a implodere prima o poi, significherebbe per noi perdere una testimonianza importantissima, perché credo che questa sia, se non la prima, tra le primissime scuole elementari che sono state realizzate nella nostra città. Grazie a Sindaco Ziberna per questo aggiornamento, a te Angelo. Grazie, grazie allora alla nostra truppa inviata oggi a Gorizia, adesso noi andiamo da Jacopo Romeo che si trova invece a Roma, dove alle 19 l'Udinese affronterà la Lazio, è terminato l'allenamento di rifinitura di questa mattina, Jacopo, a te la linea per tutti gli aggiornamenti. Ciao Angela, bentrovati, bentrovati qui in diretta da Roma. L'allenamento sì che è appena finito, siamo appena rientrati, la squadra è appena rientrata qui nell'albergo che ospita il ritiro a 5 minuti di distanza allo Stadio Olimpico. L'allenamento di rifinitura che è durato poco più di mezz'ora, lavoro più che altro fisico, atletico, qualcosa con il pallone, con dei torelli e qualche indicazione tattica che il mister ha dato e soprattutto tanti collochi individuali con alcuni giocatori. È durato un po' meno della rifinitura che c'era stata prima della gara contro la Roma, ma Tudor ci teneva a svolgere un ultimo allenamento sul campo per dare le ultime indicazioni alla squadra. Vedete anche le immagini di quello che è stata la seduta di oggi, ricordiamo che manca Seco Fofanà che non ha alcun problema fisico, semplicemente era un po' più stanco degli altri perché è uno di quelli che c'è sempre stato e dunque tornerà sicuramente in campo a disposizione e dal primo minuto contro il Sassuolo sabato pomeriggio. Vedremo poi, c'è grande curiosità, come dicevamo anche stamattina Angela, per quelle che poi potranno essere effettivamente le scelte di formazione di Tudor perché c'è una casella da colmare al centrocampo con l'assenza di Fofanà e capiremo se qualcuno dei diffidati e penso soprattutto a De Cong potrà essere tra virgolette preservato o non evitare rischi per la gara di sabato contro il Sassuolo. Tanto in difesa c'è Wilmot, c'è Sebastien De Maio, nel caso un'alternativa valida è sempre Larsen che può tranquillamente giocare con i marcatori di destra nella difesa a tre ed anche in attacco vedremo se magari con l'inserimento in un centrocampista in più potrà avanzare Rodrigo De Paul o se De Paul verrà confermato in mediana e a quel punto si continuerebbe a puntare sul tandem Ocaca-Lasagna visto che Pussetto, come sappiamo, è rimasto a Udine. Questi sono gli ultimi dubbi sul tavolo di mister Igor Tudor, un Igor Tudor che ritroverà comunque una carta in più anche sugli esterni visto che Ziegler torna a disposizione dopo la squalifica scontata sabato scorso contro la Roma. Alle 17 la parola definitiva sulla formazione perché il mister l'annuncerà a tutto il gruppo nel corso della riunione tecnica che precederà poi la partenza verso lo stadio e proprio dalle 17 noi saremo in diretta lì dall'Olimpico per commentare anche quelle che saranno le scelte due allenatori soprattutto perché dall'altra parte c'è una Lazio che è anche altrettanto in difficoltà con le assenze, mancherà infatti Correa, forse ricopera Marosic ma dovrebbe partire dalla panchina insomma anche Inzaghi ha i suoi bei grattacapi per scegliere l'11 con cui dovrà vedersela questo pomeriggio ore 19 l'Udinese. Grazie, grazie allora Jacopo Romeo per questi aggiornamenti, ovviamente torneremo a collegarci con Roma nel corso del nostro pomeriggio calcio alle 15 adesso siamo in chiusura e andiamo allora a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi e gli esperti dell'Osmer Arpa prevedono ancora per il pomeriggio condizioni di tempo sostanzialmente stabile simili a quelle del mattino con cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature in quota più consistenti sulle zone occidentali e brezza sulla costa. Le temperature massime oggi raggiungeranno i 20 e 22 gradi. Domani su tutta la regione cielo in genere variabile per il passaggio di nubi da nord est su pianura e costa sarà comunque probabile maggiore presenza di sole. Sulla costa soffierà borino, bora moderata, specie verso sera e temperature sostanzialmente stabili. È tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata su UD News TV.